La crisi, non la battiamo! La crisi, non la battiamo! Non indichiamoci! La parola di questa giornata è la nostra ultima stanza! Un intero paese insolte! E c'è la maggioranza del paese che consiglia la segna! E vuole dare parti! E non si perderà! Non mi perderebbe di stare qui con noi oggi! Non mi perderebbe! Non mi perderebbe! Non mi perderebbe! Non mi perderebbe! La scuola di questa giornata è stata fatta! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti